Continua senza sosta il botta e risposta a distanza tra il Presidente della Commissione regionale Agricoltura e Caccia Sergio Berlato e la passionaria trevigiana Marilena Rosada. Nel mirino è il caso di dire dell'anima della portavoce del Comitato di Via Casette di Treviso il correttivo di legge del cosiddetto Decreto Tutela Cacciatori e che prevede le stesse sanzioni amministrative da 600 a 3.600 euro per i cacciatori che sparano nelle vicinanze delle abitazioni, equiparando come noto queste sanzioni a quella approvata in precedenza dal Consiglio regionale del Veneto per chi vuole impedire intenzionalmente l'esercizio della caccia e della pesca. Norma inutile perché già prevista dal Codice Penale, così la passionaria. L'articolo 614 dice che punisce chiunque entra nella proprietà privata senza il consenso del proprietario. Dovrebbero forse rileggersi le leggi, appunto c'era già un codice penale che regolava se qualcuno commette qualche mancanza. Quindi non riesco a capire perché hanno dovuto fare una legge del genere. Mi indigno sapere che 26 persone in regione hanno votato sì a questa legge e dopo pochi giorni rendendosi conto di quello che hanno fatto dicono che vogliono fare un'altra legge, ma quanto tempo hanno da perdere? Quindi il messaggio al consigliere Berlato. Lui non deve fare l'interesse solo dei cacciatori perché anche tutti noi cittadini meritiamo di essere tutelati.